È stato sempre un artista itinerante, ha avuto il suo cavallo, ha viaggiato spesso e distanze lunghe. Sappiamo le distanze anche dai documenti, sappiamo che lui ha anche portato le sue opere in carrozza per portarle alle luoghe scelte. Ovviamente anche per le affresche e per alcune altre palle d'altare, ha viaggiato per eseguire le opere in situ, sul posto. Dunque il viaggio per lui è stato fondamentale. Le mappe degli itinerari possibili sia a Cortona che sul territorio, una segnaletica apposita e tour specifici per evidenziare il lavoro peregrino e itinerante del pittore. Nasce così la guida in viaggio con Luca Signorelli nelle sue terre, realizzata nell'ambito delle iniziative per celebrare 500 anni dalla morte dell'artista, nato a Cortona nel 1441. Suggerire delle suggestioni per i turisti, per i visitatori, per i residenti, per andare appunto alla conoscenza dell'artista straordinario che è Luca Signorelli, anche dopo che la mostra che celebra il 5 centenario della sua morte sarà terminata. Uno speciale itinerario che permetterà di godere a pieno dell'opera pittorica signorelliana. La guida nasce come un taccuino, un taccuino di viaggio per ripercorrere le strade che Luca Signorelli ha calcato sul nostro territorio, quindi osservare i vicoli, i palazzi, i monumenti, ma anche i panorami che egli ha visto e che l'hanno portata a realizzare le opere che ancora molti musei a pochi passi da qui custodiscono. Sono 5 itinerari, oltre 40 opere schedate che raccontano l'attività di questo pittore nel territorio del centro Italia. Contenuti non solo utili per viaggiare alla scoperta del pittore, ma soluzioni scientificamente valide e nuove sulla figura di questo artista che è stato riscoperto. Grazie. Grazie.